una lezione alla fine chi ha vinto? alla fine partita 1 e 2 sotto i nuovi tendoni oh no che stai facendo? porta la canna questo com'è? no hai detto pane ma perchè? ma non lo posso sento se è duro o no no scrooce è arrivato Checco da Roma sentivo qualcuno che bestemmiava ci vuole una benedizione ci vuole una benedizione vai benedicus vobis impotentis Deus e te padre e te figli e te spiritus santi peccatore e tu bestemmiorum ah baci l'anello baci l'anello no davanti al papa le bestemmi no davanti al papa no davanti al papa ma no ma era il papa era il papa sentire l'acqua è acqua benedetta è acqua benedetta del papa ma sentire l'acqua inverno è acqua benedetta del papa benedicus i peccatori mazzale che tu do un po' no ragazzi non fate così dal papa perché io veramente non ho parole il checco di Roma questo che è il teatro all'aperto l'unico teatro gratuito all'aperto all'aperto improvvisato improvvisato è il più famoso d'italia pure all'aperto non è così è il più famoso d'italia che ti sembra o no? che ti sembra? non c'è un po' di cazzo è un po' di cazzo è un po' di cazzo è un po' di cazzo ci può scherzare con i cianci non ho capito è un po' di po' di cazzo ha scorca la bruschetta mangiata ha scorca la bruschetta ma i calzoni com'è? e scorca ce ne avevo solo dal signor dal papa o no? dal papa no che con Roma di che come di? che dice? io ma ce l'ha nello Joe Biden ti ha detto che sei Biden sei messo come Biden è Biden fa il cappello Joe Biden è Joe Biden chi è Bernie Sanders? che cazzo è rovinato tutta la poesia del teatro l'ha aperto secondo me è quello che ha detto lo schiaffo della merda e la fece bassa no no ti è venduto a Lukaku non ci venimo a Fuligno non ci venimo ci andiamo no a Lukaku non è più di Fuligno ci andiamo no a Fuligno no 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 non c'è il pane e quale pane? perché ti ho dato? da me non mi ha dato niente questo è uno stronzo con essere grosso come quello da Fulgato ma come ne lo ha dato? non lo ha che ti fa male non si può passare la guardia non ti preoccupare me l'ha dato? me l'ha dato? cosa fa? incredibile ancora lui 19.51 già mandibola in movimento incredibile guardate come sta masticando come sta mangiando questo prosciutto riprosciuttato con doppio panino ripanettato al doppio pane ripanoso ma che dieta è questa? ma guardia a Fulgato che dieta è? e quello mi vuoi cattolino e dopo? e poi? e dopo e poi incredibile arzugata di dito ma è ancora lì che massimo ti voglio telecronare tutto quello che fai perché comunque sì io sono molto bravo a fare telecronista ma tu stai mangiando guardate come fai adesso sinistro antipasto mi sto stai mangiando tutto incredibile nemmeno ingoia lui va va continua con questa dentiera dondolante traballante riballante con doppio prosciutto ecco il goione facci la telecronaca e invece c'è nonna maria che prega sempre tutti i santi san francesco san rufino santa chiara san rufino tutti i santi sta pregando incredibile perché non ha paura di altro sempre dato gusto fa il telecronista incredibile sta salendo le scale prima la destra poi la sinistra con le scarpe bianche al pantalone verde si affaccia dalla sala e c'è la televisione accesa ma non c'è nessuno che la sta vedendo ma perché attenzione sta accendendo le luci psicodeliche incredibile ma ma le tue attreste so tarda ma perché e i suon Nonno Faustino e Filiberto, assurdo, l'abbiamo creato ragazzi Nonno ma che stai a guardare? Ma come è successo? Ti piace? No Perché? Ti piace o no? No Perché? Perché no Che gli piace Anna Maria? Solo i venti E che c'è stanno? E di vedere tutti Che c'è stanno lei? E' vero o no? E' vero o no? No No E' vero o no? E' vero o no? C'è ragione però guardate che c'è stanno in televisione Penso che c'era una bella serie Con nonno Faustino e io Fammi casino No ancora guardiamo Ma con chi c'è stanno in televisione? Non mi sono andata in televisione? Non mi sono andata con la mia Ma con che c'è? Non mi sono andata con la mia Ma con chi c'è? Ma con chi c'è? Accendi un diavolo Cucodrilli Buonanotte a tutti Ci vediamo domani Spoiler Sì 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 domani Sì 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 Anche domani sarà una bella giornata ricca E Niente Ogni tanto ci tengo anche a ringraziare Per tutti i bellissimi Messaggi che mi hanno mandato Ma sono proprio belli raga veramente Vi voglio bene Grazie 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 Notte